L'Italia ha una grandissima tradizione in fatto di monete e questa tradizione ha le sue radici non solo nel passato ma in epoca più recente proprio nel quello che ha voluto il re Vittorio Emanuele III di Savoia Il re Vittorio Emanuele III ha creato la scuola d'arte della medaglia perché voleva che la moneta italiana la moneta del regno acquistasse una dignità artistica e superasse quelli che erano i livelli medi raggiunti dalla produzione anche nelle altre zecche europee Da qui la sua idea di chiamare a immaginare i nuovi soggetti i più grandi artisti dell'epoca da Trentacoste a Calandra al Bistolfi al Canonica sono tutti i nomi noti nella scultura non incisori ma artisti che hanno immaginato questi nuovi soggetti soggetti che poi venivano trasferiti nei coni dai grandi incisori che la zecca ha avuto in quel periodo dal Motti al Giorgi e poi sarà lo stesso Romagnoli a lavorare alla zecca anche Romagnoli con tutta una carriera artistica grandissima alle spalle Tra i soggetti che hanno cambiato il percorso della nostra moneta ricordiamo senz'altro l'aquila araldica ricordiamo l'Italia su Prora un'opera molto bella del Canonica dove l'Italia in qualche modo ci ricorda la niche di Samotraccia questi richiami all'antica Grecia noi li ritroviamo anche nella quadriga briosa questa quadriga che ha i cavalli non rappresentati come al solito in maniera schematica e ripetitiva ma veramente con un senso della spazialità eccezionale considerando poi che sono soggetti per monete che vengono prodotte in serie e che quindi hanno tutti i problemi e tutte le difficoltà che comporta la produzione in serie di un manufatto e poi abbiamo ovviamente una Dea Roma e una Italia che si uniscono insieme per dare al nuovo Stato prospettive di ricchezza, di prosperità, di commercio tutto questo suggerito dalla nave ornata di Festoni che è dietro alle due figure di un gusto Liberty veramente straordinario la collezione di monete di Vittorio Emanuele non è solo una serie di pezzi rari o di particolare rilevanza artistica o di particolare rarità ma è veramente un insieme di documenti che testimoniano anche la storia e la storia economica del nostro paese Grazie 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 Grazie.